L'ondata di caldo che ha interessato buona parte d'Italia, tutto può definirsi fuorché normale o ancora peggio, classica dell'estate. Come si è avuto modo in più occasioni di leggere o sentire. A dichiararlo Edoardo Ferrara di trebimeteo.com che spiega punto per punto questa anomalia rovente. La massa d'aria che ci sta interessando è di diretta estrazione sahariana, commenta Ferrara. Quindi di per sé già molto calda in questo periodo dell'anno e in un contesto di costante riscaldamento globale, ma ulteriormente esasperata sul Mediterraneo centro-occidentale da quella che viene definita subsidenza anticiclonica. In pratica tutto è da ricondurre a pure leggi fisiche dei gas. L'alta pressione africana, in questo caso peraltro caratterizzata da valori di geopotenziale particolarmente elevati a 5.500 metri di quota, ha infatti compresso verso il basso la massa d'aria che così sia ulteriormente surriscaldata e seccata. E questo ha determinato che in atmosfera libera ci siamo ritrovati sulla testa, a circa 1.500-1.600 metri di quota, temperature di 24-28 gradi, sopra la media anche di 10-12 gradi, considerando che a quella quota, sempre in atmosfera libera, dovremmo riscontrare temperature in genere comprese tra i 14 e i 18 gradi. Al suolo invece, l'avvezione calda, ha raccolto l'umidità del mar Mediterraneo, ed ecco perché si soffre di condizioni marcatamente affose, specie lungo le coste tierreniche e in generale sul nord Italia, che comunque va detto ha sofferto meno che il sud. Oggi le temperature segnano qualche grado al di sotto rispetto alla giornata di ieri, ma non è finita qui, perché questa ondata di calore continuerà a protrarsi con intensità anche nei prossimi giorni, trovando poi nuovo vigore la prossima settimana, specie al sud. Per fortuna però, come avvisano gli stessi meteorologi, è difficile fare previsioni a lungo termine, per cui speriamo che Caronte si stufi presto di soffiare aria bollente sul nostro cosiddetto geopotenziale.